Cosa? E aspetta, provoca il mio boxer perchè mi sono pagati e se esci accettiamo il boxer ci stanno dei ah ok, guarda in caso provoca il mio boxer esci la tua ecco qua per esempio ci stanno altre armi se vedi qua qui c'è dentro e poi ci stanno tutte le armi qua e poi ci stanno tutte le armi è tutto bene qua si si e infatti vabbè non ci voglio vedere ci vabbè 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 vabbè